Sosseggiando un caffè di Kamut alla scoperta di alcuni dolci davvero particolari. Davanti a noi una barretta energetica ma anche afrodisiaca. Come si prepara? Allora, questa barretta è semplicissima da fare. Occorrono pochissimi ingredienti e soprattutto ci vogliono veramente 10 minuti. Quindi può essere fatta da chiunque, anche da chi non ha particolare dimestichezza con i fornelli, ma anche perché i fornelli non servono. Questa barretta è una barretta energetica a base di datteri, cocco, mandorle, scorza di limone, anche un po' di succo di limone e della crusca d'avena. Le mandorle sono afrodisiache. Anche la crusca è un afrodisiaco, contenendo anche datteri e cocco, anche loro ingredienti afrodisiaci. Resta una super barretta energetica adatta quindi a qualsiasi tipo di sport. E a performance d'amore. Esatto. Come si prepara? Innanzitutto si prendono queste mandorle, si passano nel macinacaffè e si ottiene quindi una farina di mandorle. Esiste già in commercio una farina di mandorle, però è sempre meglio utilizzare le mandorle intere, quindi fare successivamente, passarle nel frullatore. Quindi otteniamo una farina di mandorle, poi a questa farina di mandorle aggiungiamo la crusca d'avena. Da un'altra parte invece ci occupiamo di sminuzzare i datteri, quindi di ridurre i datteri in poltiglia. E poi si aggiunge la farina che avevamo da parte, quindi le mandorle e la crusca, al dattero. Si miscela tutto. Ah, dimenticavo anche la farina di cocco, si mette sempre insieme alle altre farine. E in ultimo aggiungiamo il succo del limone. Aggiungiamo il succo del limone e anche le scorze del limone, ma possiamo anche decidere di aggiungere dei pinoli, se vogliamo, piuttosto che delle scorze d'arancia. Perché no? Potrebbero anche piacere. Quindi le varianti da fare sono veramente tante. Potremmo anche aggiungere del cacao, in questo caso io non l'ho aggiunto perché volevo proprio una barretta che mi ricordasse anche un po' il sapore delle barrette, quelle che ero abituata ad utilizzare, quelle che vengono vendute nei negozi di sportivi, quelle energetiche prima dell'attività sportiva. E questa la ricorda molto. Questa è una barretta ricavata da un contenitore dove di queste barrette ce ne stanno 12. Si crea la base e si mette in freezer per un'ora. Dopodiché si tira fuori dal freezer, si tagliano in misura e poi si mette nella pellicola e si conserva in frigorifero per circa 6 giorni.